140.000 euro di farmaci sottratti al Policlinico di Milano in pochi mesi per mano di tre dipendenti di una ditta esterna che fornisce all'ospedale il servizio di logistica e trasporto farmaci. I tre uomini, due italiani e un marocchino, sono così stati arrestati dai carabinieri del NAS. Le indagini a cui l'ospedale ha subito collaborato sono così iniziate diverse settimane fa, partendo dai periodici ammanchi di alcuni medicinali ad alto costo impiegati per cure salvavita e per trattamenti di gravi patologie. Da lì poi si è potuto ricostruire come la sottrazione dei medicinali sarebbe avvenuta interferendo direttamente nel percorso di gestione e di distribuzione dei farmaci in ospedale. Le persone al centro delle indagini avevano infatti accesso a questo percorso poiché dipendenti della ditta esterna a cui il policlinico ha affidato con regolare procedura di gara il servizio di logistica e trasporto dei farmaci. I due italiani, secondo quanto accertato dall'inchiesta, si sarebbero occupati di sottrarre materialmente i farmaci dalle stanze in cui erano custoditi, poi in cambio di soldi li avrebbero ceduti al complice egiziano che li avrebbe fatti giungere in Egitto e una volta lì le medicine venivano rivendute ad acquirenti che ne avevano fatto richiesta. Il danno al Servizio Sanitario Nazionale, stando ai calcoli del NAS, sarebbe di oltre 140.000 euro in pochi mesi.